potete capire questo è di quello di un furgone con le ciliegie e le vende ma che le vende ma il furgone del paccià non c'ha le ciliegie non ce l'ha le ciliegie ma non vende le ciliegie e allora che vende? è il paccià la discoteca delle ciliegie ma anche di lì ci sono le ciliegie mica ah forse allora è un ortofrutto tu sei convinta di vendere le ciliegie? e allora dopo andiamo e dopo ci andiamo e dopo ci andiamo e dopo ci andiamo furgoncino è quello arriviamo a Piale Ciliegie a Piale Cilie